Eletta per acclamazione Dominique Pellecchia e lei la nuova segretaria del Partito Democratico di Melito. Ieri il congresso cittadino è la sua nomina. Il ruolo di segretario è un ruolo che condotto con impegno, con passione e con devozione sicuramente può portare delle grandi soddisfazioni. La prima iniziativa sicuramente riguarderà l'ambito della cultura ma è chiaro che mi farà piacere condividere con il direttivo, con l'Assemblea, con chiunque voglia avvicinarsi al partito, qualsiasi iniziativa loro sentano di maggiore sensibilità rispetto al periodo, rispetto alle esigenze dei cittadini militesi. Pellecchia dovrà traghettare il partito verso le prossime elezioni che si terranno nel 2022. Quale sarà il rapporto con quelli che prima erano esponenti del PD? Il rapporto con le persone che facevano parte del Partito Democratico e si sono allontanate per motivi vari perché lei ha citato l'allontanamento per l'ingresso in MDP ma ci sono state anche altre vicende che hanno portato alcuni ex esponenti del Partito Democratico ad allontanarsi dovuti ad incomprensioni, dovuti magari a situazioni che rispecchiano il nazionale. Il partito è sicuramente aperto al dialogo e al confronto con le persone che sono uscite dal partito che però chiaramente dovranno dimostrare di essere legate ai valori che sono fondanti e principali all'interno del partito.